Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuova partita verso il Grandmaster Prestige! Partita molto strana perché era... Ok, partita molto strana perché ragazzi? Perché ho messo la classe predefinita, una delle classi predefinite del gioco, quella col K Tutto cacchio, vai, dove vai? Bello de casa, ora vince, incredibile ma vero? Sì ma prendiamo le piastre, cominciamo a prendere le piastre perché, oh cacchio Perché si ha rotto l'anima, tutta la partita qua se sta fa? Bello! Cacchio, bene, aspetta uno là No, no, è sceso giù perché volevo andare a prendere quello Allora stiamo col KF5 silenziato, mamma mia che è una classe di quelle predefinite Mamma mia, che headshot! Col KF5 silenziato, porco cane! No, 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 mamma mia che mira che c'hai bello de casa Che mira che c'hai scarsa, che mira, peggio della mia, veramente peggio della mia Aspetta che, aspetta che prendo la piastra, tocca vince Vieni, oh, oh, sì vabbè E va bene, e va bene, e va bene, sempre quello, quel cacchio de balla che fa un cazzo Eh dai, fammi via la piasta Tutti con me, tutti con me Ce ne stanno due e ovviamente a chi vanno a sparare, vanno a sparare a me Perché non è che dici, a chi spariamo? Non è che spariamo sempre a quel deficiente diamante perché Tanto è sempre il più tonto di tutti Oh, mamma mia Che kill ha quello, che kill de cattiveria Solo che poi è arrivato il compare e ero rimasto con munizioni pari a... Chi ho sta questo? Con munizioni pari a zero Ah! Maledetto, maledetto Tutto per colpa dell'amico mio che ha sparato E beh, lo so Ha sparato l'amico mio che stava senza silenziatore e si è fatto sgamare Sto genio Sto genio, porca miseria Attenti qua che arrivano Attenti qua che arrivano Che cacchio è? Pocca miseria E la peppa E la peppa E la peppa Che cacchio c'ho Che cacchio c'ho? Eguaggiamento terminato C'abbiamo pure la... Vieni da me Vieni da me La mega velocità, eh Attenzione ci abbiamo la mega velocità Oh! E basta Cacchio Ah già perché qua non c'ho Eh... Qua mi pare tosta perché raga non c'ho L'invisibilità sugli attacchi ma soprattutto Le torrette Se mi chiappa non mi sventrano Se mi chiappa non mi sventrano Che cacchio? Questo che cacchio sta a fa' qua? Cose assurde succedono Gente che non capisco come giochi Ma la vuoi rompere è stata orretta oppure no? Oh! Non ti riesco a capire Chi è che mi dà le cortellate? Chi è che mi dà le cortellate? Oh oh! E dai E pure io però Non me ce devo mettere a fare queste gretinate Su 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 Da qua Cacchio Bello Bello sto UAV Bello sto UAV Bello sto No Dai raga Ma com'è? Ma che cos'è? Ma mi sembra di averlo preso Ma che cos'è? Uno scherzo Uno scherzo Ditelo che ho Vabbè questo ha rotto Questo con il suo silenziatore Veramente Gli spara la gente E non gli arrivano i colpi Aspetta che arriva uno Qua Che muore Mamma mia Quello UAV È qualcosa di fantastico Una volta finiti i prestigi Che non mi serviranno più I punti Farò solamente con questo Tacchio Rannato Mi sta a cercare No dai Ma come faceva vedermi? Stavo sotto la terra Stavo 49 48 addirittura Bello Bello Stanno qua però Attento che stanno qua Bello Mio E dai Mamma mia Non siamo più in vantaggio La gente si ferma La gente sta ferma Sta Aspetta che più la piastra Caccia pure io però Che cacchio De mira E muori Caccia Perché c'è salcaccio Non c'è niente St'arma Veramente è un casino È un casino Però Non ci possiamo lamentare Dai 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 Corri 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 No No Oh Oh No C'ero quasi riuscito Ragazzi C'ero riuscito Quasi In una kill Che se me veniva Veramente era da saltare Sopra il divano Sulle Approvvigionamento in campo Vabbè T'ho sparato per primo E son morto Per primo Vabbè Aspetta Per me È come dico io Regà È come dico io Cacchio Sta qua Sta qua Sta qua Sta qua Oh Oh Mannaggia Non mi vanno ancora Non mi caggiù Eh Sì Però Chillate troppo bene Regà Chillate troppo bene Un colpo e mi ammazzate Un colpo e mi ammazzate Porcaccia La miseria Porcaccia La vostra miseria Un colpo e mi ammazzate Oh Aspetta che più la piastrina Almeno stiamo 69 pari Sta uno qua sotto Vediamo se riusciamo A prenderlo Tento Tento Sta venita là Sta venita là Vai 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 Via la piastra Via la piastra Via 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 Eccolo Vai Uccisione confermata Vai Mio Grande Grande a quello che ha chiamato Sto UAB Che ci vuole proprio Dai 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 Approfittamone Vai Tutte le piastre Grandi Piatele Piatele 79 70 Oh E dai Però porco cane E vedi c'è qualcosa Che nuova Sta partita Io me ne accorgo subito Mo vabbè A bel silenziatore Ma me ne accorgo Se nel senso Non vengono giù Come dovrebbero Però Ce la faremo ugualmente Ce la faremo Finita Va 85 72 Va Ragazzi Spero che il video Sassate a vostro gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale E condividete il mio video E ci vediamo Ovviamente Con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale